Domenica 25 ottobre Leone, accettate i consigli di un amico per creare in famiglia un clima più armonioso e collaborativo. Potrete permettervi cambiamenti tanto desiderati. Vergine, Venere e Giove si abbracciano nel segno e vi rendono ottimisti ed entusiasti. Dimostrerete calore umano e simpatia a chi vi gira intorno. Bilancia, Urano nell'opposto segno dell'Ariete improvvisa colpi di scena che non sempre vi faranno piacere. È importante che procediate con razionalità. Scorpione, la Luna è impegnata in altri lidi ma a voi ci pensano Venere, Marte e Giove, amici che vi faranno ugualmente eccellere in ogni campo. Sagittario, Saturno nel segno si stringe amorevolmente alla Luna in Ariete e gestirete e integrerete alla perfezione la vita domestica con quella professionale. Capricorno, saprete rispondere adeguatamente alle varie intuizioni che si presenteranno. L'equilibrio tra emozione e razionalità vi farà sentire sicuri di voi. Aquario, selezionate gli amici con cui negli ultimi tempi avete intrecciato relazioni molto strette. Più che la quantità, valutate la qualità. Pesci Saturno con la sua orbita di quadratura fa prevedere qualche inciampo, ritardo o la rinuncia ad un programma che vi sta particolarmente a cuore. Sarebbe un peccato lasciare che timori del passato vi blocchino, girate pagina e siate più ottimisti. Sarebbe un peccato lasciare che timori del passato vi blocchino, girate pagina e siate più ottimisti.